Benza stampa della Cisparta Praga, ci scusiamo che siamo arrivati un po' in ritardo. Vi presento l'allenatore e il manager dello Sparta Praga, Josef Kovanec, e il giocatore che è Kamil Watzek. Prima per favore fate le domande a Josef Kovanec, all'allenatore. Posso chiedere che per voi è la migliore variante, ottenere un punto domani o ottenere i punti all'ultima partita? Prima di tutto dobbiamo essere coscienti di chi è il nostro avversario. Il nostro avversario è Palermo, che è una delle squadre più forti del nostro girone. Abbiamo le possibilità di fare il nostro avversario, ma ora abbiamo il nostro avversario. Abbiamo il nostro avversario in Palermo, ma oggi abbiamo bisogno di fare il nostro avversario. Quindi abbiamo il nostro avversario in Palermo. Domani si giocherà la qualificazione. Mosca ormai è qualificata e noi abbiamo molte chance di qualificarci. Domani si gioca tutto. Delio Rossi ha detto che si tratta di una partita chiave per il Palermo. Si tratta pure di una partita chiave per voi? Io capisco l'allenatore del Palermo. Noi abbiamo un grande vantaggio. Noi abbiamo, tra virgolette, due tentative. Domani e poi l'ultima partita. Loro hanno solo domani. Quindi capisco perché è una partita chiave. Chiavelli che vi spettano? Sì, se lo faccio? Siete contenti del tempo che faccio qui? Che potete correre sulla erba naturale? Non dovete stare a chiuse come a Praga? Secondo me i nostri giocatori non si sono dimenticati di come è l'erba naturale, il tempo da noi è molto diverso. Siamo molto contenti che domani giocheremo contro il Palermo perché sarà un buon avversario e un bel posto. Volevo chiedere al mister, secondo lei sempre per quanto riguarda l'argomento climatico, la sua squadra potrà risentire di questa escursione? Se non sbaglio avete lasciato Praga con meno 10 e trovato una città che ha 20 gradi, quindi quasi 30 gradi di escursione termica. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri livelli non sono più piccoli, perché i nostri ragazzi e i ragazzi non sono i ricordi di essere più piccoli, quindi se ne stesso meno, da meno 10-5 gradi sono stati più piccoli. secondo me questo fattore non influisce più di tanto certi giocatori in più saranno molto contenti come il nostro giocatore di Cameron o di Costa d'Avorio saranno contenti per il clima caldo che ci fa volevo chiedere a Mr. Ciovenec se è al corrente della situazione che c'è in Italia relativamente allo sciopero dei calciatori proclamato so che ne hanno parlato anche i giornali sportivi della Repubblica Cieca se conosce il problema che idea si è fatto e se insomma Repubblica Cieca si è mai vissuta la situazione nel genere a se ne vedete cosa si pensi di stavaggio in Italia cosa si pensi di in Italia a penso che ci sono in città e se ne vedete cosa si pensi di cosa si pensi di? Io sono informato su cosa accade più o meno, in Italia esiste un'associazione di giocatori molto forte, da noi non esiste l'associazione dei giocatori né quella degli allenatori, penso che sicuramente c'erano i suoi motivi per cui faranno il sciopero. Lei ha menzionato due giocatori di paesi dove fa molto caldo, visto che li ha menzionati vuol dire che questi due giocatori giocheranno domani. L'allenatore risponde che non vuol dire niente. Posso? Abbiamo intervistato Thomas Scuradi che è un vostro osservatore e anche un ex compagno di nazionale del mister. Ha detto che lo Sparta non farà una partita di attesa, non punterà il pareggio. Volevo chiedere gli conferma di questo. La volontàtica prevede l'attesa degli attacchi del Palermo oppure se giocheranno una partita di attacco, a prescindere dal discorso qualificazione. Ciò che si è rara di attacchi del Palermo oppure, non ci sono stati. La potrebbe essere rara della partita di attacchi del Palermo oppure si può essere rara di attacchi di attacchi. Non c'è nessuna squadra che voglia pareggiare. Tutte le squadre voglia solo vincere. Non c'è nessuna squadra che voglia solo vincere. Non c'è nessuna squadra che voglia solo vincere. Si aspetta un Palermo diverso rispetto a quello che avete affrontato all'andata? Considerando che la squadra sembra essere cresciuta. Parlo di quella di Delio Rossi, riduce da tre vittorie. Naturalmente lei l'ha studiata. Che impressione le ha fatto questo ultimo Palermo? Noi abbiamo osservato tutte le ultime partite che ha fatto il Palermo. Abbiamo visto che non era solo il risultato, la cosa più importante, ma che hanno anche giocato molto bene. Quindi la loro produttività è il gol. Si è visto bene. Wilfred Boni è il miglior marcatore dell'Europa. Potremmo sapere quanto rinorgisce questo gol? Boni è il migliore socialista dell'Europa. Sei molto piaciuto? Troppo, ovviamente. Siamo molto contenti, anche perché nella storia cieca è una cosa molto particolare questa stagione giochiamo bene siamo molto contenti che Boni ha fatto tanti gol e speriamo che ne faccia ancora molti di più per favore adesso le domande per Camilo Vazca